La squadra mobile di Caltanissette ha eseguito due misure cautelari per tentato omicidio e sequestro di persona, in esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Nisseno, su richiesta della Procura della Repubblica, per un episodio avvenuto in città nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2020. Secondo la ricostruzione della Polizia, due giovani, in compagnia delle rispettive fidanzate e alla presenza di amici, sarebbero venuti alle mani per futili motivi in piazza Mercato, nelle vicinanze della cosiddetta Stratafoglia. Prima uno dei due si sarebbe allontanato dal posto, poi sarebbe tornato armato di pistola e avrebbe sparato almeno due colpi che non avrebbero raggiunto la stessa persona con la quale aveva avuto la cesalite. Il giorno dopo un uomo si accorgeva di alcuni fori sulla carrozzeria del proprio veicolo e chiedeva l'intervento della polizia. Successivamente la scientifica riusciva a risalire all'arma utilizzata, mentre le indagini conducevano a un giovane nisseno, a carico del quale sarebbero stati raccolti gravi indizi di colpevolezza. Inoltre l'indagato, con l'aiuto di un complice, avrebbe privato della libertà due ragazzi, attirati con l'inganno in un'abitazione, sottoponendoli per circa due ore a violenze fisiche e morali, impedendo loro di allontanarsi. L'indagato per tentato omicidio e sequestro di persona era già agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. L'altro, solo per sequestro di persona, si trovava in carcere per reiterate violazioni della misura di prevenzione.